Manuela Palermi esponente nazionale PCI su Facebook. 13 luglio 2017. Il manifesto sta seguendo con attenzione tutto ciò che riguarda il percorso della sinistra. Fino a fare un forum con la convocazione di tutti i soggetti tranne il PCI. Non il massimo per un giornale che si definisce ancora comunista. Stamane lo compro per vedere come riporta il dibattito di ieri sull'iniziativa convocata dall'Arsa alla quale siamo stati invitati. Lì, lasciatemelo dire, Mauro Alboresi ha fatto un ottimo, se non il migliore, intervento. Sulle cose da fare, sulle proposte concrete vi va Dio a cominciare da una questione ineludibile, e cioè il ruolo dello Stato in economia. Mi accingo a leggere. Vengono pubblicati stralci di interventi di tutti i presenti. Sul segretario del PCI neanche una parola. Ora, io non dico che bisogna fare il tifo per il PCI, ci mancherebbe. Uno può legittimamente preferire Pissapia o altri. Ma un po' di corretta informazione, no è? Grazie.